ragazzi pallotta è stato denunciato mr president è stato denunciato è stato denunciato ragazzi mi a prendere conto voi direte ma è stato denunciato da qualcuno da qualche azionista della s roma no 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 ragazzi ma stiamo scherzando quelli parlano solo è stato denunciato dagli azionisti di mineranza della s roma spv llc limited liability company cioè la holding della roma e perché è stato denunciato lui come socio di maggioranza perché praticamente gli azionisti di mineranza stanno cioè ritengono che nella trattativa di gestione della società africchin pallotta gli abbia sostanzialmente denuti un po fuori dagli interessi economici e quindi abbia abbia diciamo strutturato la gestione in modo da averne profitti maggiori più o meno questo è quello che ho capito io dalla da quelle due righe che c'è scritto nella nell'articolo di romapress.net che potete trovare sul mio profilo twitter quindi andate a seguirmi su twitter ragazzi e vi leggete anche questo articolo dell'amico john solano e quindi praticamente pallotta è stato denunciato per la gestione o meglio per i comportamenti relativi alla gestione della società africchin ora che cosa comporta questo perché poi alla fine che pallotta venga denunciato non interessa a nessuno tranne che a qualche pallottiano come ce ne sono tanti qui che mi seguono il discorso qual è? il discorso chiaramente è vedere tutto questo in ottica roma che vuol dire? vuol dire innanzitutto che comunque secondo me questo denota che la trattativa è ancora in piedi cioè è un elemento che mi fa pensare che la trattativa sia ancora fortemente in piedi perché altrimenti insomma gli azionisti di minoranza se la trattativa fosse saltata l'avrebbero denunciato ma forse probabilmente anche sì ma che tipo di risarcimento danni puoi chiedere se la trattativa poi non è stata conclusa cioè tu vai a denunciare qualcuno nel momento in cui effettivamente hai subito un danno economico no? in questo caso io penso che non l'avrebbero fatto qualora la trattativa fosse totalmente saltata il che mi fa pensare che la trattativa è ancora in piedi come già vi vado dicendo da qualche da ormai un paio di mesi è in piedi o meglio è congelata ma non è assolutamente una fragata perché non avrebbe senso parlare di trattativa una fragata in questo momento in cui non ci sono assolutamente certezze poi ieri leggevo insomma di creazione secondo nella semestrale c'era scritto che la trattativa è stata messa in congelatore dovuta per il covid e va bene queste cose le sapete insomma se mi seguite su questo canale queste cose le sapete quindi che cosa vuol dire? vuol dire che questi azionisti di minoranza hanno denunciato pallotta è una cosa ok oltre questa considerazione fatta sulla trattativa con Frickin è una cosa positiva o negativa ma sicuramente ragazzi se ci sono delle denunce o comunque delle possibili case è una cosa negativa non è mai una cosa positiva perché evidentemente ci sono dei giudici che dovranno esprimersi non stiamo parlando di giudici italiani quindi alla fine vi dico questa cosa potrebbe risolversi anche velocemente e potrebbe anche arrivare un accordo tra le parti insomma non è che la denuncia comporta che poi debba necessariamente comportare che si arrivi in tribunale quindi non è assolutamente questo che voglio dirvi chiaramente se non ci fosse stata sarebbe sarebbe meglio il fatto che ci sia stata vi ripeto secondo me è una testimonianza ulteriore del fatto che non è nafragato nulla con Frickin ancora più in questi giorni quando si sta riparlando di ripartenza diciamo che un po' tutti quanti siamo con lo spirito un po' più leggero cioè perlomeno questo è il discorso personale che vi voglio fare io sto con una con uno spirito un po' più leggero anche per la ripresa del campionato alcune squadre si stanno tornando ad allenare è chiaro che ci sono situazioni particolari ma sembra che un pochettino iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel e quindi forse riusciremo a metterci presto questo momento alle spalle e ne rimarrà che cosa ne rimarrà una Roma che ha bisogno comunque di cambiare marcia di cambiare rotta anche dal punto di vista economico e societario e Frickin era la possibilità prima del covid io credo che possa rimanerlo anche dopo il covid chiaramente sperando che al comune di Roma invece di mettere le pecette sugli autobus e distanziare le persone sugli autobus e sulla metro come se sull'autobus e sulla metro salissero solamente persone che insomma poi avrebbero trovato il posto a sedere ma in realtà sappiamo che sugli autobus a Roma ci sono persone anche sul tettino eppure hanno messo tutti questi stigre del tipo tu non puoi sedere qui tu non puoi sedere lì già mi immagino persone che fanno ah c'è l'autobus pieno vabbè dai aspetto il prossimo tanto passa solo tra tre ore quindi invece di fare queste cose cioè queste cose totalmente folli come se l'autobus e la metro non l'abbiamo mai preso potrebbero decidersi ad approvare definitivamente la questione stadio che magari ci darebbe un pochettino di speranza anche dal punto di vista della città sebbene qualcuno abbia proposto di spostarlo da un'altra parte nei giorni scorsi ma va bene questa è un'altra storia di cui abbiamo parlato un altro video detto questo ragazzi io vi saluto fare il mese per la vostra ciao attimo e ciao a tutti quanti grazie a